Dottor Stancanelli dunque fervono i preparativi per una nuova edizione di scritture di lago che vede non solo la cultura ma la felice sinergia tra pubblico e privato e la valorizzazione del territorio che adesso peraltro stiamo rivendicando visto che spostarsi è diventata un'impresa. Certo diciamo che l'originalità di questo premio è proprio questo il fatto di coniugare la scrittura quindi il racconto ambientato nelle zone lacustre quindi in questo caso dei laghi e l'economia del territorio perché molte volte chi legge dei romanzi soprattutto ambientati in un lago ritorna per rivivere l'atmosfera del romanzo. Quindi c'è anche un concetto di ricchezza di turismo e qui sono coinvolti il lago Maggiore, il lago di Como, il lago di Lugano e quindi anche le province e i comuni di Varese, Como e Lecco. Ecco è importante proprio l'originalità. Io ovviamente rappresento Banca Generale sul territorio, siamo una banca private, una banca che ha ovviamente da parte dei nostri clienti una spinta a coinvolgere quindi questo caso a sensibilizzare soprattutto in un ambito culturale e quindi noi abbiamo risposto con attenzione. Nel frattempo io ovviamente sono anche presidente della Riuin che da dieci anni collabora con Banca Generali nell'ambito ovviamente del terzo settore quindi in questo caso nel welfare organizziamo tanti eventi soprattutto di arti, ospitiamo tanti artisti nei nostri uffici e un'opera viene sempre regalata a un'associazione on-lus sul territorio e quindi viene venduta e ricavato viene regalato. regalato a questa associazione. Diciamo che in questi dieci anni abbiamo veramente fatto più di 30 iniziative di questo tipo, ne faremo ancora e ad esempio anche Varese ospita in questo caso al Museo Castiglioni una nostra permanente di un fotografo molto conosciuto quindi vuol dire che siamo una realtà bancaria che non è chiusa in una torre d'avorio ma sta sul territorio in modo concreto.